... Ragazzi e ragazzi, rieccoci qua su Lost Judgment, proseguiamo da dove ci eravamo lasciati, siamo riusciti ad avere la conferma anche da Eara, abbiamo scoperto un bel piano da parte di Eara e compagnia Bella, dove c'è dentro anche la vittima, Kuana che era l'insegnante, insomma, l'unica cosa che non sappiamo bene cosa c'entri sono RK, sostanzialmente perché stanno cercando Kuana, ma immagino insomma lo scopriremo, adesso andiamo avanti, siamo insieme a Sugiura, torniamo alla Yokohama 99, vediamo un po', assimo per ora, non so, percibiamo la voce. La voce qual è una cosa che ci vedo, ovvio, ovvio, ha visto un po' la voce, è che si笑a… Si, non mi sembrava, non mi sembrava, è che si sa báinare. Non c'è ancora un po' di raccogliere. E quindi? R.K. ha chiuso a chiedere Kuana? E' vero, Yagami? Sì. Sì, Sawa ha chiuso a chiedere Sawa. Sapeva troppo, così ci han detto. Però, perchè gli R.K. stanno cercando Kuana? Cosa sanno di lui? Sì. Allora, non c'è nessuna informazione, ma non c'è nessuna informazione. Non c'è nessuna cosa, ma non c'è nessuna cosa. È così. Non c'è nessuna cosa, ma non c'è nessuna cosa. Siamo arrivati in un po' di più. Noi, non c'è nessuna cosa. Non c'è nessuna cosa? Sarà meglio uscire per adesso Che possiamo vagare così a caso Guardati intorno così a caso Guardati intorno in città Dovemo capitare Nel punto giusto O ricevere una telefonata da parte di qualcuno Non so Comunque per il momento Io continuerei a fare quello che stavo facendo Cioè Giocare Ad Ice Cube Infatti sto più o meno Facendo una partita A episodio Almeno Portiamo avanti la missione Senza monopolizzare l'episodio stesso Ma Un po' Come ha detto? Quattro? Sì, e quindi? A Reiko Kusumoto, madre di Mitsuru Kusumoto, tempo fa non era altro che un anonimo funzionario del Ministero della Salute, mentre ora è viceministro. A Reiko Kusumoto e Reiko Kusumoto e Reiko Kusumoto. A Reiko Kusumoto e Reiko Kusumoto e Reiko Kusumoto e Reiko Kusumoto. Sono qua, dai facciamo una partita. Ui, no 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 no. Andate via, andate via. Andate via, via, via. Eh, basta ormai, sono scappato. Facciamo una partita da SQ e poi andiamo avanti, dai. Così portiamo avanti sta missione. Ok, sempre solite regole, standard, sì, comunque noi eravamo arrivati da Ryan, ci ne mancano due. Tanago, Tanago, non mi ricordo. Eh sì, comunque, anche nel primo c'era il viceministro della salute, mi pare. Aveva le mani in pasta un po', con la malavita. Ottimo, ottimo. Sfida parkour, speriamo sia quella... Beh, dice difficile, però quella con tante... Esatto, ok, perfetto. Perché questo era con tutti gli appigli, era più semplice. Eh. Allora, vado di qua, perdo tempo un attimo qui, però poi vado su dritto. Ok. Vediamo se becco... Ok, c'è, c'è. Vado. Guarda, perfetto. Eh sì, se becco la colonna giusta, qui... Vado su tantissimo. E più vado su, più stelle poi ci danno. Eh, qui però, spostiamoci un attimo. Vai, vai. No, no, troppo, troppo. Oh, mi vede a volte. Ok. Ok. Eh, forse più o meno... come l'altra volta. 80 metri, sì. Ok. Eh, 8 stelle. Bella. Bella di guadagno. Modifica tiro. Andiamo. 4. Quindi uno dietro di noi. Ho guadagnato 4 stelle, dobbiamo stare attenti. Ok. Beh, noi abbiamo la tecnica quella... Ok, un'altra sfida parkour, bene. Abbiamo la tecnica, quella di tirare per 3 volte 6. Molto forte. Ci manca una stella per prenderla. Eh, questo non è quello di prima, vabbè. Qua devo perdere tempo a spostarmi, e quindi non andremo su... come prima. qui mi devo spostare... Ok. Ok, ho schivato. Qua mi sposto... No. Eh, vabbè. Non fa niente. Ok, prendo sti due. Troppo vicino. Andiamo. Vai su, vai su, vai su. Ma non ci arrivo. Questa brilla più del solito. Ok. Ok. 6 stelle. Molto bene. Molto bene. Però aspetto a usarle. Significa tiro più uno. Bene. Lui spreca le sue così, va benissimo. 7. Maledetto, mi supera. Eh, però tranquilli. Allora, lanciamo. 4. Ah, eh, potevo... No, va bene anche di qua, dai, va bene. Tenuta. Quante? 7. Benissimo. Benissimo. Ok, adesso magari... Facendo 6, 3 volte... 2, 4, 6... 2, 4, 6... Sì. Ok. E' davanti a noi. Adesso io... 7 stelle guadagnate. Maledetto. Faccio. Usa tecnica. Spezza stelle. Ah, riduci le tue... Le stelle del tuo rivale di 7, con 9 punti. Scambia posto. Scambia il posto col tuo rivale anche? Ah, nel caso facciamo schifo. Aspetta. Eh... 6 prossimi 3 tiri, questo. Colla. Ok. Ok, farò soltanto 6. Così lo superiamo. E io quasi quasi, anziché fargli saltare il turni... Gli faccio proprio spezza stelle. Così non ha abbastanza stelle per colpire me. Adesso vediamo cosa fa. Sta usando... Ok. Più 2. 5, 2, 7. E' davanti. Aspetta, però. E' davanti. 4 stelle. Eh, però no. Forse mi aspetta. Fammi contare un attimo. Adesso io 2 volte faccio praticamente 12. Quindi... Io sono qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sì. Allora no. Conviene bloccarlo. Salta turno. Qui sta fermo. Adesso io faccio 2 volte 6. E ho vinto. Mi sa. Anzi, sicuro. E' da parkour. Benissimo. Oh, è quello con tutti gli appigli. Molto bene. Quindi guadagno un altro botto di stelle. Mi sposto qui, però. Su. Su. Vai, sono messi bene. Io non mi devo spostare. Vediamo se riusciamo a battere il record di 80 metri. Sì. Sì, sì, sì. Stavolta ce la facciamo. Non mi sposto. Non mi sposto. Vabbè che ce la facciamo. Arriviamo a 100. Arriviamo a 100. Vai. 102. Molto bene. Oh. 11 stelle mi ha dato. Io non le uso. Ok, lui sta fermo. Basta. E direi che abbiamo vinto. Ecco. Vabbè, ma queste tecniche sono praticamente rotte. Cioè. Si può dire. Cioè. Ecco. Ormai vincere, mi sa che è diventata una cagata. Ok. Abbiamo recuperato tutti i soldi spesi in gioielleria. Ok. Ok. Ehi, sbaglio ho appena combattuto contro Tanago. Ha fatto il suo solito spettacolino da mister prova a colpirmi, vero? Eh. Tu. Vediamo. Per cos'altro era famoso. Non saprei. Non aveva mica un qualche tormentone? Tipo se mi colpisci mi stupisci o qualcosa del genere. Nah. Per quanto rientri nel record del suo personaggio non credo di averlo mai sentito dire. Tutta la sua fama era incentrata sull'evitare i pugni in un parcheggio. Dovevi piazzare una scommessa e cercare di colpirlo entro 30 secondi per non perdere il malloppo. Giusto, giusto. Questo sì che mi suona familiare. Sai, pensavo che includendo mister prova a colpirmi avrei riportato in auge un personaggio storico. Ma è solo un PNG, no? Già. Poveretto. Persino il suo designer l'ha definito un signor nessuno. Sarebbe come mettermi a fianco di Ryan a costa e chiedere chi dei due spicchi di più. Ah. Beh, voi due spiccate entrambi in modi differenti ma sì, hai reso l'idea. Tanto per cominciare il suo look va rivisto da zero. Vestito come un fesso Tanago non si farà mai dei fan. Forse sarebbe più fico con una benda sull'occhio. Che dici? Ah, disse il tizio che si è appropriato della sua immagine. Ma prego, continua pure a farne ciò che vuoi. Questo mi sa che è un dialogo tra sviluppatori. Probabilmente. Cioè, va bene, dai. La nostra partita già la siamo fatta. e prendiamo pure il nostro taxi. Dov'è che è? Qui, qui. ok. Sì Sì questo è quello che abbiamo fatto in questo anno non è ancora un anno sembra che il nostro piatto è molto bello anche se non ci sono un po' di più ma non è sicuramente che non si può essere più vero il suo regalo del sistema non è la parola di un'attività non si può essere un'attività anche un'attività sembra un'attività ma anche il lavoro è uno che è il più grande sì Sì, perché si sono qui, ha fatto un po' di nuovo, ha fatto un po' di più, e ha fatto un po' di più a questo che ci ha detto che prima di roma di cui ha chiesto di un po' di più. Se tutto un po' di più iniziare, potrebbe essere un po' di più iniziare a un po' di più iniziare a roma. Non ho fatto proprio un po' di più iniziare a vedere l'arga. Sì, ma è una cosa che è un po' di più iniziare a procurare a sottotitoli, e che il nostro Studio... Sì. Sì. Mi ha chiesto di Sawa, e mi ha chiesto anche per me. Non c'è nessun gruppo, non c'è nessun gruppo. Non c'è nessun rischio. Ma c'è nessun gruppo che c'è l'altro. Ma c'è nessun gruppo che c'è l'altro. C'è nessun gruppo che c'è un gruppo di lavoro. Se, che non è un problema, non si può fare un po' di più. Non si può dire che non si può fare un po' di più. E non è proprio quello che si può fare un po' di più. È sempre che. Certo. Ma è così facile? Quisimo e Mitsu sono ancora in mente con un po' di più. Si. Se si è iniziato a fare un po' di più, si è iniziato a prendere l'argomento. c'è un'altra cosa ok, ma anche questo è certo o? oia oia? questo è... qu'è? c'è una notizia di scegliere che la sua famiglia è a cura di scegliere e? anche i miei notici il caso di scegliere il fatto che il scegliere ha fatto il caso di scegliere il caso di scegliere Sawa Yoko-san ha fatto un uomo in casa in casa, e ha fatto un uomo di Kanagawa che ha fatto il giro di Katakata Yu. Perché Kuana? Ha un uomo di RK, non è vero? Ha fatto un uomo di risultato, e ha fatto un uomo di camera in casa. Anche, ha fatto una uomo di 10 anni più avanti, e ha fatto un uomo di risultati, e ha fatto un uomo di risultati. Perché la polizia cerca Kuwana e non Soma? Che dialogo sta succedendo? Perché? Ok, chiedi. Chi? Votanabe Kjiji. Mi Ko Shiba bambini. Oh, tu è un penitenciatore. Ma cosa? Kuwana ha chiesto a Sawa, e ha chiesto di un'esplosione? Nabe? Non ho visto la notizia. Quana è un video di robocci, e mi sono stati al centro di marginali, ma è stato iniziato a vedere a sei che ci sono presi un ufficiettante sempre e mi, a Sarma ha oltrettozza a sul fogletto ed il nome di Soma. Ci sono sposti con un problema di RK, ma anche Cura di quello che si tratta. Ma non è stato fatto, ed è un problema di che giustizia di sottotitoli. è stato detto che ho scurito, non ti capisco, e ho scopito. Cosa è stato fatto? Cosa è stato un'attività di più? Quana è una cosa importante, ma... Cosa c'è un'attività di un'attività di un'attività di un'attività. Inoltre il guardo di un'attività. È un'attività che stai a perdere. Che è ora? Ah? Non ci sono un'attività di parlare? Sì, non è vero? Sì, non ho parlato di raggiungere, ma... Nabe-san? No, non ho parlato con te. Non ho parlato di parlare. Non ho parlato. Cosa? 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 E' la stella principale di Senatown, dovevo raggiungere e capire cosa sta succedendo. E' la stella principale di Senatown, dovevo raggiungere e capire cosa sta succedendo. Per una che ha magari molto potere, no? Però, magari vediamo, ci sarà... Aspetta, andiamo di qua. Ci sarà forse qualche colpo di scena. Andiamo più di uno a tirare le fila, ma... Cioè, non so, così risulta... Per quanto bello, un po' prevedibile, però... Eh, non so... Eeeh, sono qui, ma... Eh, qua c'è... C'è il tizio... Ok. Ok, l'ho preso. Ok. Almeno... L'abbiamo liquidato subito. C'è il tizio... C'è il tizio... Ma... Che cosa faccio? Oh, il c'è il tizio... E... Ma che... Ma... Che... È... Io... È stato qui. È... Tu non è proprio un po' di questo? Ci sono un amico che ha avuto il nostro amico. E quindi, mi sono anche un po' di questo tipo di rinforzamento. Cosa? Perché non è il caso di RK? E se, non è proprio che non conosciuto il rinforzamento? Sì, non è un po' di parlare in questa situazione. e secondo te dirci qualcosa no? eh ma la 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 C'è un bambino? Non, non c'è un po' difficile. Non c'è l'occasione del rK. C'è quello? Dopo che il Mico柴 si è morto, i gruppi di giocatori non sono stati sottotitoli. Perchè, per aver guardato il giocatore, mi sono ancora capito. Grazie a tutti. 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 E' uno rassegnato. Si volta dall'altra parte, ma non è così che si fa. Grazie a tutti. Ok. Grazie a tutti. Aspetta che... Madonna, non me l'aspettavo. Eh, un attimo. Vai, riproviamo. Me l'aspettavo che c'era il Quick Time Bang. Oh, wow. Oh, wow. Madonna, se... Mena di brutto comunque. Beh, come prima... Io quasi mi curo, aspetta. Ah no. Ah, ma ci ha ricaricato... No, non ce l'avevo prima tutto l'ex. Vabbè che sarà a fasi, però... Ehm... No. No, sì. Ok. Però aspetta, magari... Lo usiamo... Cioè, lo usiamo dopo. Aspetta, com'è che era R1, giù... X3. No, ho premuto X. Oh, madonna. Non l'ho premuto in tempo, forse. Vabbè. No. Vabbè, ho perso due volte. Non è che ho perso, chissà quante volte. Cioè... Ehm... Vabbè, ci riprovo. Però l'ex volevo tenerlo per la fine. Magari sai che non diamo il colpo di grazia. E niente, mi devo curare qua, sennò ancora... Vabbè che quello... Col colpo ci shotta. Sì. Va che agilità, va che agilità che abbiamo. Eh sì, comunque, la schivata l'hanno migliorata dal primo. Qua si può schivare veramente come si deve. Aspetta. O là. Anja. Che cavo, anche lui però... Aspetta. Carichiamoci ancora. Ok. Oh, porca. R1. R1. Giù. X triangle. Eh cavolo. Adesso, 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 adesso è il momento. Aspetta, mi allontano. Ok. Vieni qui. Ok. Vieni qui. Ok. 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 Vieni qui. Vieni qui. Vieni qui. Allora. Oh. Ok. Devo Pelonaro? A me. Ah, non? Ah. Oh, no. Ah, va a trarerlo. Il suo caso è vero che il suo caso è un uomo, ma non è vero che non lo faccio. Perchè, io continuo a prendere un uomo a lui. Il suo caso è un uomo che è un uomo e un uomo. Sì. 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 Sì, Grazie a tutti. 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 Ma si sa, i morti non parlano. Non sbarazzandosi di lui potrebbero riuscire a insabbiare tutto. Grazie a tutti. Insomma, cerca qua nella geomigiusi. Mi ricordo... Mi ricordo quell'edificio decadente. Facciamo così, va. C'è pieno di cavi... Si, 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 si. Grazie a tutti. Ok, ma dovremmo... Ok, ma dovremmo... Si, ma dovremmo... Bene, la mia occasione... Bene, la mia occasione, grazie a Tsukumu... Ma cos'è, ha fatto parlare il drone... Ma cos'è, ha fatto parlare il drone? Ehm... Devo andare di qua... Piatto d'oro... Aspetta... Questo è girato... Ok... 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 Abbiamo la monettina... La classica monettina... Quella è girato... Ma non posso... Beh, lui in teoria così non... Dovrebbe vedere... Ma siamo obbligati a lanciare la monettina? Vedi, così è girato... Non posso andare... Ma... Scusa... Beh, vediamo... Ok... Beh, il civile non dirà nulla... Speriamo... No... Oh, oh... Mica mi vede... Ah, no, no... Ok... Vedi qua... Ok... Però sta parlando... Monettina? Ma dobbiamo andare dove? Di qui? Andiamo... E il civile non fa una piega? Attenzione... Ah, di qua... No, 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 no... Ah, ok... 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 Posso... Eh, che è un poliziotto... Eh, va bene... Ok... 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 Posso... Toccare... Giustamente... Ehm... Ehm... E devo... Ah... Vabbè... Non abbastanza... Insomma... Vecino... Ok... 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 Riuscito a non farmi beccare... Peno male... Allora... E' questa la Geomijur... Kuana dovrebbe essere all'interno di quelle... Di questo edificio... Problemi tecnici proprio ora... Grandioso... Tocca la camera da solo... Magari c'è un... C'è un dispositivo che... Interferisce... Con i trasmittenti... Interferisce... ... Ehm... Nei! Ehm... L' Anthony! ... ... ... ... ... ... ... ... U... ... S.S.S.S.G.U.R.A? Tu non mi ha detto, non mi ha detto, è che io spiegare a questi follosi. Ha, ha, è vero. Yagami, ci sono qui qui, R.K. In realtà, R.K. ha visto che R.K. ha visto prima di più che il ruolo del警tale? Non, è un po' troppo. E' come un'altro che gli altri R.K. hanno trovato qui qui. Grazie a tutti. 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 Dove? Posso salire più di così? Qua c'è qualcosa. Qua c'è un oggetto. Ma dovrei riuscire a saltare dall'altra parte. Vediamo come posso andare oltre. Eh, ma c'è anche la freccia. Magari posso salire più in alto passando di qua. C'era anche l'oggetto, quindi è... di certo su Gyu hanno scelto un modo facile. Non che avessimo alternative comunque, ora di andare. Aspetta, qui c'è l'oggetto. Ok, è il rametto. qua molliamo. qua è che era così. Qua c'è la freccia. qua c'è l'oggetto. Prendiamolo. Ok. Ok. No. Ma... Aspetta. Dovevo... Arrampic... Oddio. Nooo. Sarò l'aspetto. Allora è di qua. Poi giù. Poi giù. Così. Qua. Io sono andato dritto, ma... bisogna andare di qua. Qui c'è la freccia. qua si va giù. Qua si va giù. Non... Non penso che correndo... Vabbè, ok, ok, ok. Ok, posto. Ah, non va su? Vabbè. No, basta. Giù. 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 E siamo arrivati. Buongiorno. Buongiorno, Yagami. Oh! Omae la comizia del mondo, no? Ah? Comizia? Buongiorno? E io? C'è questo? Qui c'è? Non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Yagami. Esatto. Così. 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 Così è andato. Oh, blind. Aspetta. Mm. Ok. Eh, boh, vediamo di qua. No, S? Cos'è S? Ah, per... Forse riposarsi un attimo. Sicuramente in sigaretta. Salva. Ah, ti fanno salvare. Hmm, allora forse c'è qualche evento importante. E allora ne approfittiamo.